La Pasqua è da sempre il primo termometro del turismo sull'isola d'Ischia. Cosa possiamo dire al tirar delle somme? Direi che l'esordio è buono. Se un giorno si vede dal mattino potremmo anche essere ottimisti. C'è stata un'ottima presenza, quasi il pienone, che per una Pasqua alta è effettivamente un ottimo dato. Prevalenza di famiglie, prevalenza di italiani come è normale che sia in questo periodo, ma anche stranieri, tedeschi, qualche russo. Possiamo guardare con un minimo di ottimismo a questa stagione. In che cosa l'isola si presenta pronta e in cosa invece deve ancora migliorare e limare qualcuno di quelli che sono i suoi atavici problemi? I problemi principali che vedo sono comunque quelli dei collegamenti, perché ho sentito di file un po' non organizzate benissimo. Qualche mezzo in più in questo ponte forse sarebbe stato auspicabile. Siccome il biglietto da visita dell'arrivo sull'isola è appunto il trasbordo, credo che qua dobbiamo migliorare. Su tutto il resto penso che siamo a posto. In particolare è ancora freddo il mare, ma è quasi pronto ad accogliere in maniera carezzevole i nostri turisti.